ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video di captain su base del dream team allora non fate caso a quello che scorre sotto di noi o meglio è quello che oggi è uscito ma oggi andiamo a pull noi di nuovo ce la siamo sentiti e alla fine ho deciso ma ci mettiamo e puliamo perché il banner dei dei giapponesi dream collection troppo allettante e devo dire che mi avevano anche mandato i video i ragazzi per il pull per catalto è il mio caro amico antonio li ha presi tutti ha preso quello che voleva soga e puritanese quindi ho detto insieme a questo insieme a molti altri che ho visto che i rate sono abbastanza alti ho detto va ci proviamo ci proviamo se un altro va tentata perché sono giocatori che danno 4 per cento di bond e arrivate a questo punto la nostra formazione per fare il salto servono questi quelli che danno il 4 per fare il salto definitivo e quindi andiamo a pullare ci saranno le mie estrazioni estraiamo qui dicevo l'anticipo sul super dream collection mini dream collection dei giapponesi quello dove ci sono soga e hikawa per intenderci ho visto molti anche trovarle con tre di dream volè allora fermo restando che io non ne ho nessuno dei due e che quindi mi farebbe piacere trovare tutti e due però avevo una preferenza per soga per quel che riguarda gli incastri della mia formazione certo è che anche trovando hikawa si possono creare altri incastri e quindi per questo abbiamo deciso che pullare è la cosa is the way is the true way is the true way è la strada vera la strada giusta quindi ragazzi bando alle ciance e ciancio alle bande andiamo al super mini dream collection pull allora io già lo dico molta ansia molta ansia abbiamo 780 dream ball sarebbe bello trovare qualcuno subito ma noi proviamo mini super mini dream collection siamo pronti dai dai la camera forse un po grande non è tutto non è proprio anche un po' le piuono ci sono vuoto vuoto skip 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 la prima è vuoto il primo step è vuoto secondo quello da 40 per noi questo mini dream collection super mini dream collection vediamo un po' cos'è che luce la roccio la luce di fronte è un po' buio sono sopra in camera comunque la camera è fissierina questo mi sembra un altro vuoto ma è mamma secondo step vuoto da qui in poi l'SSR ci sarà perché è garantito a questo c'è l'SSR garantito è il terzo step non voglio attendere più di tanto perché c'ho una frenesia di vedere se ne esce o tutti e due magari chi lo sa chi lo sa vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' è chiaro è evidente che dobbiamo sperare chance vabbè questa sappiamo che c'è l'SSR garantito dai fai che sia uno dei due dai perché non è è tre SsR ma potrebbe essere seppur uno di loro no? o prima levin hamburger hamburger detto volontariamente male 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 ah ecco che doveva comprare la scritta qui c'è selezionato io mi sto sotto qua così non do fastidio a niente questo è lo step della verità qua qua ci giochiamo il toto per toto toto gioca toto la bellezza toto per toto ci giochiamo toto per toto mamma dire che mamma si può essere pure vuoto aspetta oh uno c'è tre tre dai 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 forse allora igawa igawa sì 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 igawa igawa non voglio essere troppo eh no mi sa che no che pull ragazzi che pull ragazzi che pull ragazzi vamo 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 mai successe tre sessere una molti l'ultima dopo 170 dreamball però sono arrivati tutti e due vamo no vamo no vamo no questa come finisce me la devo screenshotare e ci facciamo una pausa là sopra tutti e due vamo un altro al meglio vabbè non fa niente no che ok fammela screenshotare questa e faccio una pausa sullo screenshot sullo screenshot allora allora me ne sono andato su visualizza e modifica ma qua cosa devi modificare cosa devi io voglio ragazzi scusate l'endosiasmo già là c'è io perché ho fatto lo screenshot poco fa l'avete visto allora allora c'è io una multi così non l'ho mai fatta il colore mi fa un po' pena però fa niente allora igawa e poi vabbè c'è un altro e poi soga e poi al meglio ragazzi questa è la multi del siglo per quanto mi riguarda per quanto mi riguarda sì è la multi del siglo per quel che mi riguarda sì non puoi le serve non puoi le serve e invece puoi le serve finalmente allora qua si aprono tanti scenari ma tanti 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 scenari di formazione ma proprio tanti 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 bello bello sì però però abbiamo preso non c'è di che lamentare perché veramente abbiamo preso tutti e due io alla fine ero disperato perché ragazzi avete visto non c'era niente dietro sembrava vuoto alla fine i giocatori erano al 30% non c'era una garanzia è stato fedele poi io non ho mai fatto una multiple che aveva due SSR figuriamoci quattro quindi cioè due sì due sì tre SSR figuriamoci quattro quindi top lasciando stare i doppi sono usciti loro due quindi che cosa dobbiamo chiedere più a questo mini dream collection cosa dobbiamo chiedere più a questa mini dream collection io la fermo che sto mettendo le mani sopra per screenshotare raga spettacolo puro con un finale io non mi metto sopra sopra caguto assolutamente non vorrei che questa parte del video viene un po' più diversa non penso dovrebbe venire tutto a schermo intero allora ragazzi io come sempre mi raccomando stiamo arrivando a 5100 iscritti chi vuole iscriversi al canale telegram chiocciola cadato 91 e di qua vi metto un video e sotto di me sotto di me ci sarà un video e di qua l'iscrizione come sempre ragazzi chiocciola cadato per andare nel gruppo telegram e per questo video pool è tutto ci vediamo nei prossimi video ciao belli